... Amici, weekend sportivo a pieno regime, si comincia subito domani con Cartigliani in serie D di calcio che gioca d'anticipo, ospita la Villa Franca al fair play alle 14.30. Per i biancazzurri di casa c'è non l'urgenza, però l'ospicio che possano assolutamente centrare il bottino che manca ormai da troppo tempo, se non altro per consolidare il piazzamento play-off che dopo la cavalcata di metà stagione sarebbe davvero un peccato non riuscire a dar pionare quantomeno gli spareggi della post-season. Per quanto riguarda domenica al calcio Bassana c'è la partitissima al mercante, 14.30, Bassano contro Marosti Censa, cioè la seconda in classifica contro la squadra di rivelazione e il ritorno al mercante di Ezio Gleria, insomma a Marcord, un match assolutamente da vedere anche perché poi Bassano non ha alternative alla vittoria, sta facendo bene ma c'è chi sta facendo benissimo come lo Schio, quindi Bassano deve solo vincere e sperare che lo Schio possa perdere qualche punto e in attesa di questo bisogna macinare dei grandi risultati per quanto riguarda i giallorossi nei quali potrebbe assolutamente esordire anche, magari per uno spezzone di gara, Giulio Bizzotto c'è l'addizione pregiata, il fiore all'occhiello del mercato invernale della truppa di Checomaino comunque una partitona assolutamente imperdibile sia dal punto di vista dello spettacolo che per quello che concerne proprio la posta in palio per quanto riguarda il resto, allora, nell'occhiepista domani una gran serata col Bassano che a Follonica deve cercare assolutamente di strappare punti in chiave sopravvivenza per frenare l'emorragea delle troppe sconfitte consecutive degli ultimi due mesi e serve assolutamente una prestazione coriacea perché uscire dal Capanini in Marema con qualcosa in tasca è davvero impresa ardua per quanto concerne invece la 2, la Roller gioca a Modena, uno scontro di vertice è la seconda contro la terza, insomma ci siamo già capiti nel basket di Serie C goal, partitissima a Riese per il Bassano con qualche infortunio di troppo, tipo Tersillo Bassano che vuole cercare il gran colpo in esterna per stare lì con le migliori il rugby di Serie C invece gioca ad Alpago e lì servono punti per stare a galla più che mai anche se non è affatto semplice chiusura con l'occhio e ghiaccio che gioca domani all'Inzi in Austria è dura ma bisogna strappare punti e allora per quanto mi riguarda vi aspetto lunedì con i resoconti ovviamente statemi benone e viva eh!